Schapo Pescara è tanto di cappello all'undici del tecnico Alberto Colombo che con una gara praticamente perfetta espugna lo Zaccheria con un secco poker al termine di una gara che i biancazzurri hanno dominato in lungo e largo. Quattro vittorie su cinque per la formazione abruzzese che inizia davvero a far sognare i propri tifosi. Il tecnico pescarese non abidica dal 4-3-2-1 in porta, c'è regolarmente Pizzari, a sorpresa sulla tre quarti con Cuppone. C'è De Sogus che sarà tra i migliori in campo, sugli spalti 6.000 spettatori con trasferta vietata ai tifosi pescaresi, presenti nel settore ospiti però una decina di supporters biancazzurri non residenti in provincia di Pescara. Gara subito vibrante con al quarto un tiro di poco a lato di Petterman, all'undicesimo grande giocata di De Sogus che dai 18 metri chiama la parata in angolo nobile. Sicuramente meglio la squadra di Colombo che approfitta di qualche spazio di troppo lasciato dai locali. Partita vibrante con Dursi pericoloso con una conclusione a fil di traversa qualche minuto dopo. Gara sempre viva con Vutai poi pericolosissimo invece al 28esimo con un colpo di testa che fa terminare il pallone a fil di palo. Sale la pressione dei pugliesi che provano a mettere pressione al Delfino ma al 41esimo è l'Escano a mancare di poco il bersaglio grosso. E' però l'anteprima del vantaggio biancazzurro che arriva al 43esimo con Cancellotti che innesca l'azione conclusa in gol dall'attaccante argentino a pochi metri dalla linea di Porta Foggiana. Esulta sotto il settore dove si trova la sparuta pattuglia di tifosi biancazzurri l'attaccante del Pescara abbracciato dei propri compagni. Doccia gelata per lo Zaccheria con i ragazzi di Boscaglia che chiudono in avanti il primo tempo e con al 47esimo la parata a terra di Pizzari su punizione dai 35 metri di costa. Nel secondo tempo fra i locali Cettonin al posto di Peralta. Avvio equilibrato solo nei primi minuti con il Delfino che però al nono con Milani al termine di un'azione giocata magistralmente trova il raddoppio gelando ancora una volta l'impianto pugliese. Fanno ancora festa i biancazzurri con Colombo che invita però i suoi ragazzi a non mollare la presa. Al 22esimo dopo qualche attacco locale il Foggia resta in 10 per il brutto fallo di Di Pasquale su Cupone che è costretto a lasciare il campo in barella e a recarsi in ospedale. Al suo posto entra in campo Tupta con Colombo che manda sul terreno di gioco anche Palmiero per Jabois. La gara è praticamente finita visto che al 33esimo il Foggia subisce il Tris Biancazzurro ad opera di Craia che fa calare con largo anticipo i titoli di coda del match. Con la contestazione dei tifosi di casa che infuria sugli spalti mentre al 40esimo poi nella più classica delle azioni di contropiede Bergani fa 4 a 0 mettendo così anche il suo nome fra quello dei marcatori del match. Il Pescara vince e nel recupero c'è anche Gloria per Plizzari che dice no alla bella rovesciata di Frigerio. La formazione abruzzese espugna lo Zaccheria, porta a casa altri tre punti ma da domani il pensiero sarà rivolto solo alla gara con il Monterosi.